Avere del capitale in gestione anche di 100, 200 o 300 mila euro senza necessariamente essere assunti da una investment bank. Bene, in questo video ti spiegherò come è possibile quali sono i passaggi da effettuare e quali sono le caratteristiche e vantaggi di questo tipo di attività. Prima di partire se non vuoi perderti altri contenuti in ambito finanziario come ad esempio la playlist che è andata molto bene riguardo a quella che è la creazione di un trading system, beh allora ti invito a iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Partirei subito parlando del concetto di Prop Trading nonché abbreviazione del termine Proprietary Trading ovvero quell'attività che coinvolge i propri capitali a fini speculativi. In pratica si tratta del trading che una società effettua con i propri capitali. Questo vale ovviamente sia per una società sia per la singola persona. Per oggi parleremo di società quindi di prop firm che effettuano questa attività perché appunto l'attività di Proprietary Trading come singolo individuo è quella che ognuno di noi fa davanti al proprio pc con i propri fondi. Queste società ovviamente hanno la necessità di avere dei trader al proprio interno che operano sui mercati finanziari. Generalmente queste società hanno grandi capitali ecco perché appunto vengono costituite delle vere e proprie società che danno appunto in gestione a questi trader. Al trader ovviamente verrà poi corrisposta quella che è una percentuale dei profitti che effettuerà con quel capitale a lui datogli in gestione. Quindi questo è un vantaggio per il trader in quanto si troverà a operare con capitali nettamente superiori rispetto a quelli che invece gestirebbe utilizzando un proprio conto di trading e quindi con propri fondi. Ovviamente sulla base di che cosa una società sceglie un trader? Ovviamente in base al suo profilo di rischio e alle sue performance. Adesso infatti entreremo un po' più nel dettaglio di quelle che sono le cosiddette challenge che vengono poste ai trader per ottenere questi capitali in gestione. Ovviamente queste challenge servono poi per valutare appunto il trader che dovrà gestire il capitale. Tra le più famose di queste società quindi di queste proprietari firm c'è MyForexFund di cui troverete il link qui sotto in descrizione. Per trasparenza appunto vi dico che quello è un link di affiliazione quindi se lo utilizzerete a voi non cambierà nulla però sosterrete questo tipo di contenuti. MyForexFund è una società creata nel 2020 il che significa che è una società che ha alle spalle già un bel po' di storico. Questo è importante perché con l'avvento delle proprie firm numerose sono queste società che sono spuntate fuori. E molte volte il problema di questo tipo di società che magari hanno poco storico sono problemi nel ricevere i pagamenti e generalmente permettono l'utilizzo di pratiche discutibili di trading per passare poi queste challenge. Quindi su questo fate molta attenzione. MyForexFund ha diversi programmi per ottenere del capitale in gestione. Noi oggi ci concentreremo sull'evaluation ovvero appunto su quella che è la challenge che viene posta al trader. Se poi siete interessati agli altri programmi basta scrivermelo qui sotto nei commenti in modo tale che noi possiamo andare ad approfondire programmi che più vi interessano e a dare risposta ad eventuali domande. Quindi adesso mi sposterei al pc per mostrarvi di più in merito. Bene eccoci sul pc qui come vedrete abbiamo tre programmi ma quello che noi andremo a vedere oggi è appunto l'evaluation che come vi dicevo prima è appunto la challenge che bisogna superare per ottenere in gestione questi conti. Una volta aver cliccato sull'evaluation arriviamo in questa pagina in cui abbiamo diversi dettagli. Io andrei subito a vedere quella che è la tabella che in questo caso ci interessa per le challenge. Qui abbiamo la tabella in cui al di sopra c'è scritto l'importo dei conti in gestione che noi possiamo ottenere. E qui in basso tutte le caratteristiche che dobbiamo rispettare che adesso andremo a vedere. Prendiamo ad esempio la challenge da 50.000 dollari. Qui vediamo che ci viene richiesta una prima fase di valutazione delle nostre performance in cui dovremmo raggiungere quello che è un 8% come target. Dopodiché invece una volta superata la fase 1 dovremmo raggiungere un target invece del 5%. Quindi si va a ridurre il target che ci viene richiesto. Dopodiché ci viene indicato quali sono i minimi giorni che noi dobbiamo tradare. Quindi nella prima fase che dura un mese dovremmo tradare almeno in 5 giornate differenti. Adesso però andiamo a vedere quali sono i profili di rischio che ci vengono richiesti. Allora abbiamo un drawdown massimo che possiamo raggiungere che è pari praticamente al 5% del totale del conto. Quindi in questo caso 2.500 dollari. Quindi non possiamo avere in una giornata una loss superiore ai 2.500 dollari. Mentre poi qui in basso ci viene indicata quella che è la perdita massima che noi possiamo sostenere ovvero il 12% dei 50.000 dollari. Superati ovviamente questi requisiti non si supererà la challenge e quindi bisognerà partire da capo. E questo vale anche dopo aver superato la challenge. Quindi una volta aver ottenuto in gestione i 50.000 non dovremmo sforare questo profilo di rischio. Una volta superata la challenge non abbiamo alcun requisito riguardo al target da raggiungere. Quindi l'importante è mantenere questo profilo di rischio. Qui ci viene dato il leverage in questione e qui abbiamo il costo della challenge. Questa challenge una volta che viene superata ci verrà rimborsato anche questo costo appunto per partecipare alla challenge. Maggiore il conto che si vuole ottenere in gestione e maggiore il costo ovviamente della challenge. Quindi nel caso in cui volessimo partire effettivamente con questa challenge basterà cliccare su select plan e appunto completare poi i pagamenti e registrarsi. Per la registrazione servirà solamente un'email e una password. Tutti i dati aggiuntivi ci verranno richiesti dopo aver superato la challenge. Una volta aver fatto ciò ci verrà anche mostrata una dashboard con tutti i progressi e i profili di rischio da mantenere. Cosa succede adesso ai profitti che noi generiamo con questo conto? Bene abbiamo il cosiddetto profit split che in questo caso per quanto riguarda MyForexFund nel primo mese è del 75%. Quindi nel caso del conto da 50.000 se generiamo un profitto di 5.000 dollari di questi 5.000 il 75% ci viene pagato mentre il restante rimane alla propfer. Dopodiché il profit split aumenta con l'aumentare dei mesi fino ad arrivare a un massimo dell'85%. Ovviamente poi per tutti ulteriori dettagli e approfondimenti potete scrivermi qui sotto nei commenti oppure dare un'occhiata alla sezione domande di MyForexFund in cui viene anche specificata un po' la questione ad esempio Expert Advisor e così via. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se già conoscevate le prop form e nel caso se conoscevate MyForexFund. Noi ci vediamo al prossimo video.